Arena, propinquate, mi serve una mano Francia, mi spieghi perché stiamo al pronto soccorso? Perché c'ho le palle simmetriche Anzi, dammi un occhio a quello che hai studiato Ho fatto filosofia E appunto, tu coglioni Uh, giovane, gratta la ruggine, giocate a fare la getta Sì, però aspetta, così mi sto a fare il controllo dell'olio Ma che schifo, Francia, ma poi da quanto è che non ti fai il bidet? Boh, quando andiamo vitti, mondiali Ma quanto dura a sto ciccio, schifo? Ma chi è? Ma quanto c'è vuole sotto l'ora che sto aspettando per sto ghiacchiare ognita? Zitto, caffoni! Carfoni a me, ma li portesci? Tu, 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 tu Li tua, li tua, ma li tua Ma li tua, tu, 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 tu Li tua, li tua, li tua, li tua, tu, tu Tu, 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 tu Ma che è? E li tua? Renà, secondo te ne fanno pagare? Beh, guardate le palle Ma come sento, entro a sta Babilonia, un? Dice, segui le striscia bianca, ma qualcuno se eggi a pipà Ma like, mamma mia donna Il prossimo Guarda che fenomeni che c'ho stanno a fila C'è Mo' Gimmi Zilla wow 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 che tizio che pensa che è sempre il numero suo 125 ho il numero mio hanno il 9.007 e il vecchietto che ha di arrea ah finalmente è finita dobbiamo andare a bagno mi sono tinte di mutande ho il numero mio dimmi car mio avanti il signor Francesco per favore ecco ma dottor ma si paga? dipende occhio alla Cambogia alla che? matregna arrivederci dottor guardi che deve pagare eh sei piaci e spicci eh fermatelo le guardate al prepuzio che è successo Francesco? non lo fa pagare no scappiamo via via giovane scusa che numero ci avevi? eh il cinquattro madre si certo dimmi la verità ti chiami Francesco sei te Francesco? si è lui Francesco tazitto abbecile aia